Ho scoperto la storia di Claudio Galuzzi in maniera del tutto casuale e da quel momento ho iniziato a ricostruire, grazie all'aiuto della famiglia, la sua storia. Una storia che parte da un libro di poesie, dal titolo La pianura dentro, che è stato fondamentalmente il motore del mio progetto, perché da quei testi nella mia testa è nato il soggetto del documentario, che poi si è sviluppato attraverso le parole dei protagonisti, attraverso i loro ricordi. I protagonisti sono persone che sono state a stretto contatto con Claudio e che hanno subito molto la sua grande personalità. Claudio era un po' più grande di tutte le persone che ho intervistato ed è stato fondamentale nel loro percorso artistico e umano anche, perché chi è diventato musicista, chi ha scelto un percorso nelle arti visive, chi ha aperto locali, insomma, la presenza di Claudio ha sicuramente dato a queste persone degli stimoli nuovi e particolari. Non è stato semplicissimo ricostruire questa storia perché il materiale a disposizione era pochissimo, non c'erano video dell'epoca, eppure parliamo degli anni 90 fondamentalmente. E questo è stato anche uno dei motivi che mi ha spinto però a raccontare questa storia. Claudio Galuzzi è morto nel 1998, poco prima di quella che poi è stata l'esplosione digitale. E una delle prime cose che mi ha colpito era proprio il fatto che basta una banale ricerca su Google per non riuscire a trovare grosse informazioni su Claudio Galuzzi. Questo mi ha incuriosito anche perché lui aveva toccato talmente tanti mondi artistici milanesi che non riuscire a trovare traccia mi sembrava davvero assurdo. Secondo me è il titolo che sembra molto semplice e banale, se vogliamo, ma in realtà riassume veramente uno stato d'animo che solo chi vive da queste parti, Casal Pusterlengo, Piacenza, questa parte della Padania che è probabilmente quella più reietta, perché è una zona nebbiosa, periferia di Milano. Ho avuto ragione, tra virgolette, perché comunque le parole dei personaggi, dalla Donà a Giovanardi a Max Pirotta, a Davide Sapienza, tutti quelli che hanno partecipato al progetto mi hanno confermato che Claudio era un operatore culturale di quelli che oggi si fa molta fatica a trovarne e di quelli di cui secondo me c'è un gran bisogno, proprio perché utilizzava quelle logiche di distribuzione artistica molto underground, molto indipendenti, ma che di fatto avevano come obiettivo quello di arrivare a più persone possibile. e quello è sempre stato il mio esempio da seguire, quindi mi ha affascinato molto per questo. Ricordo in particolare come scrittore, perché i suoi libri erano magnifici, le parole contenute lasciavano sicuramente il segno, il segno nel senso che ti facevano riflettere. La poesia è un po' lo spirito creativo nella sua essenza più forte, è proprio il seme, la poiesis è proprio per gli antichi greci, è la creazione che viene dal nulla, è il fare del nulla proprio. Tu sei nel nulla, è un po' come quando sei bambino e ti annoi, che è il problema che hanno i bambini di oggi, non si annoiano mai, invece dovrebbero tornare ad annoiarsi perché lì ti sforzi per creare dal nulla qualcosa. Ci sono stati due momenti che hanno sicuramente toccato sia me che i presenti, perché mi sono sempre portato un po' di persone al seguito durante le riprese. Quando abbiamo intervistato Mauro Ermanno Giovanardi, cantante della Cruz e con un percorso solista molto importante, oltre all'intervista a un certo punto ha iniziato a leggerci dei testi di Claudio, con la sua voce molto calda, molto profonda, molto intensa, ed è stata una sorpresa anche perché in quel momento ha portato dei testi probabilmente inediti, o comunque dei testi particolari che aveva lavorato con Claudio, ed è stato un momento molto particolare. Questo non è documentato, quindi non è stato contato nel documentario, però dal punto di vista umano è stato un bel momento. Stessa cosa è successa con Cristina Donà. Avevo immaginato qualcosa perché era venuto a fare l'intervista con una chitarra, solo che magari tornava da delle prove. In realtà alla fine dell'intervista ci ha cantato Piccola Faccia in diretta, e quello ci ha completamente spiazzato, è stato un regalo meraviglioso di Cristina che vedrete nel documentario, è una parte molto importante alla fine della narrazione. Mi sarebbe piaciuto vedere che cosa avrebbe fatto, perché sfortunatamente lui è morto in un momento forse di massimo successo per lui. Uno degli aspetti più interessanti di Claudio era quello legato alle recensioni letterarie. Infatti aveva fondato Pulp come inserto di rumore, ed è proprio studiando Pulp che ho scoperto l'unico audio di Claudio, quindi è l'unica traccia vocale che sono riuscito a recuperare in questo percorso, che è stata un'intervista fatta da Claudio a Luis Pulveda. Ed è una parte, secondo me, bellissima, che alza proprio il pennello, perché Claudio è molto simpatico, tra l'altro, uno ha la battuta sempre pronta, anche con Sepulveda, e si prendono un po' in giro. E Claudio utilizza una frase che per me è diventata poi, è diventato un mantra, perché raccontare la mia vita, cosa c'è di così speciale la mia vita, non avrebbe quasi senso, diceva con umiltà Claudio ai tempi. In realtà per me quello è diventato, a parte che ascoltare la sua voce, per me è stato un punto di contatto molto importante. E attraverso quel lavoro fatto su Palp sono riuscito a ricostruire un po' il suo percorso, perché tramite quella rivista lui incontrava molte persone, molte delle quali sono quelle che poi ho incontrato anch'io, purtroppo tranne Roberto Roversi, su cui non siamo riusciti a costruire un capitolo, perché era impossibile recuperare del materiale, ma Roberto Roversi è una figura molto importante nella formazione di Claudio. Roberto Roversi, probabilmente uno dei più grandi autori italiani, che a un certo punto della sua vita ha deciso di fare un percorso completamente indipendente e davvero underground, nel vero senso della parola. Quindi si sono lentamente perse le tracce e sarebbe stato molto bello poter approfondire il rapporto tra loro due, che era molto molto importante. Tanto che Roversi scrisse la prefazione del suo libro di poesie La Piamola Dentro. Sai, l'esercizio di condensare in poco, che poi è quello che fanno i testi delle canzoni, degli stati d'animo, lui lo faceva veramente con il dosatore, perché sono poche, le sue poesie non sono lunghe, sono poche cose, però messe al posto giusto. Una cosa che mi ha sorpreso, a distanza di comunque tanti anni dalla sua scomparsa, è il ricordo molto nitido delle persone che lo hanno conosciuto. Andando a rivedere il documentario, mi rendo conto che i protagonisti hanno tracciato un profilo di una persona di cui ricordavano i gesti, il volto, e ricordavano praticamente tutto quello che avevano vissuto assieme. Tutti si sono presentati con il libricino La Pianola Dentro di Claudio. È una cosa che non era richiesta in fase di ripresa, eppure è stata una cosa che ha caratterizzato un po' questo percorso, perché evidentemente quel libricino ha lasciato un segno importante in quel collettivo, perché alla fine parliamo di un collettivo di persone che in quegli anni faceva tante cose insieme, seppur a distanza, seppur non incontrandosi tutti i giorni, con delle dinamiche che oggi ci risultano estranee, perché la condivisione di allora è decisamente diversa dal concetto di condivisione che abbiamo noi oggi. E questo rende quel mondo, secondo me, molto più solido, con delle radici molto più solide e profonde delle nostre dal punto di vista artistico, perché mi rendo conto che i nostri tempi tendono a essere troppo veloci e i progetti tendono a durare troppo poco, mentre qui parliamo di progetti nati 30 anni fa, anche qualcosa in più, che rimangono ancora in piedi negli artisti e nelle persone che li hanno sviluppati e li hanno visti nascere. Claudio farebbe molta fatica oggi, aveva una visione molto diretta, quindi scrivere con la penna, sulla carta, ascoltare musica, per esempio non ascoltava musica sulla macchina, cosa che invece io faccio. Possiamo dire che Claudio Galuzzi, grazie anche agli spazi che gestiva, il Muzac, che era un piccolo negozietto di dischi, ma che diventava anche la redazione dei giornali che curava, e il Lenz, che era il locale dove ha lanciato molti musicisti, quindi attraverso la sua personalità e attraverso gli spazi che gestiva nell'area di Casal Pusterlenco, Lodi, quella zona là, è diventato per... ha fatto sì che molti autori e molti artisti scoprissero di essere autori e artisti. Questo ne fa di lui una figura molto importante, perché non dimentichiamo quello che poi è diventata la Milano artistica in quel periodo. Negli anni 90, fine anni 90, poi sono nati dei movimenti che tuttora continuano a suonare, che hanno avuto in alcuni casi comunque un successo notevole, e in generale si è creato un movimento che si può tranquillamente definire il movimento di quegli anni. È una cosa che non so se diremo fra vent'anni di questi tempi o useremo più queste immagini di collettività e di movimento artistico, quindi credo che sia una cosa molto importante. E Claudio Nera sicuramente uno dei protagonisti assoluti di questa scena. Iniziare a mettere un paletto tra il pre-Napster e il post-Napster, il pre-Internet e il post-Internet. Per noi condivisione era quella roba lì, cioè trovarci, condividere delle idee, cercare di realizzarle. Adesso condividere vuol dire altro. E sono convinto che presentare la prima al Cinema Mexico sia un messaggio molto importante, proprio perché andiamo in uno di quegli spazi che anche Claudio amava, uno di quegli spazi che danno le opportunità agli autori indipendenti di esprimersi e di esibirsi, che non sta a cercare il progetto con produzione o con distribuzione. Quindi per me è una grande gioia, anche perché il Cinema Mexico è un po' una casa per me, ed è una gioia maggiore perché andarci da autore con un progetto di questo tipo, che vuole appunto dare valore alla distribuzione artistica e farla ritornare indietro nel tempo, perché in questo caso tornare a pensare la distribuzione e la cultura come era un po' prima dell'era di Internet non è necessariamente un male, questo non vuol dire che stiamo parlando male di Internet, che è un mezzo fantastico e favoloso, però il Cinema bisogna vederlo in sala, ed è per questo che siamo molto felici di essere stati scelti dal Mexico per la prima. Scoprire Claudio è stato un po' come identificare l'epicentro di quel terremoto culturale che ha dato vita a quello che è il movimento artistico degli anni 90. Grazie a tutti.